Incarichi professionali alle cariche elettive, è stato questo l'argomento di scontro di Paolo Tancredi con il capogruppo alla Regione del Movimento 5 Stelle. Lei è d'accordo su questa possibilità? I 5 Stelle assolutamente no. Intanto spieghiamo brevemente di cosa stiamo parlando e poi secondo lei perché bisogna continuare su questa strada. Io sono d'accordo, ho presentato l'emendamento e la mia firma insieme a tanti altri emendamenti su cui vedo c'è meno interesse per riguardare il terremoto, miliardi di euro. Detto questo, i 5 Stelle non credo, la Marcozzi sì, i 5 Stelle erano presenti in commissione, noi l'abbiamo condiviso, l'emendamento, se andate a prendere rendiconti della commissione non c'è stato nessun intervento da parte dei 5 Stelle. C'erano l'onorevole Castelli che rappresentava i 5 Stelle, l'onorevole Cariello e non c'è stato assolutamente nessun tipo di obiezione all'emendamento. Poi la Marcozzi. L'emendamento io lo sostengo fortemente e penso che sia un passo avanti verso un ridare dignità alla rappresentanza. Io ho la sfortuna e anche il piacere e la fortuna di avere qualche volta fatto delle liste. L'opinione pubblica, voi giornalisti, tutti ci chiedono di fare liste di qualità, di mettere persone che abbiano qualità. Ebbene, se noi escludiamo tutti i professionisti pubblici, perché è chiaro che se io vado a chiedere a un professionista candidati e quello mi dice ma se io divento consigliere comunale poi praticamente il 70% della mia cliente della potenziale, cioè tutta la pubblica amministrazione, viene esclusa, io vi ricordo che a fare il consigliere comunale non si prende un euro. A Teramo non si prende un euro. Immaginatevi i consigli comunali dei poveri paesi di montagna dove essere sindaco o essere consigliere comunale e prestare un servizio. La Marcozzi ha parlato di emolumenti e prebende dagli enti in cui questi sono eletti. Quali sono questi emolumenti? Lei e io prendiamo delle prebende dalla regione e come legislatori veniamo lautamente retribuiti. Ma i poveri amministratori locali sono alla fame, non prendono nulla, fanno un servizio e oltre a fare questo servizio gli dobbiamo dare la discriminazione. Perché? Col presupposto che influenzano, con la loro influenza, e allora i magistrati non influenzano, i giornalisti non influenzano, i medici non influenzano. Quindi praticamente mettiamo all'angolo le influenze, cioè noi dobbiamo dare gli incarichi solo a persone che sono assolutamente inette, inefficaci. Così sapete che succederà? Che si candideranno soltanto persone che non hanno nulla da fare, scioperati, come la maggior parte dei 5 Stelle, basta guardare i loro curriculum, perché è chiaro che a molti 5 Stelle questa roba non fa nulla. Loro non si sognano manco di avere incarichi dalla pubblica amministrazione, perché invece un povero geometro, un avvocato, un giovane avvocato, praticamente gli si preclude la possibilità di fare anche un servizio per il suo consiglio comunale. E' una cosa ignominiosa che insieme a tante altre norme che abbiamo costruito in questi anni hanno relegato la rappresentanza a un disonore che non è giustizia, non è giusto.